È stata una lunga maratona consigliare durata ininterrottamente per oltre sette ore, quella che si è svolta ieri sera a Fano, confluita nell'approvazione del nuovo regolamento dei consigli di quartiere, un dibattito quest'ultimo che ha occupato gran parte della seduta. Per la Giunta è stato il raggiungimento di un obiettivo di particolare importanza, il principale, dato l'impatto cittadino, programmato nei primi cento giorni di attività. Da parte sua l'opposizione ha cercato in ogni modo di ottenere il coinvolgimento, reclamando questo diritto, sia dal punto di vista etico che normativo, ma la maggioranza ha proseguito dritto per la sua strada difendendo fin dall'ultimo il disegno che era stato ideato, cioè l'istituzione di dieci consigli di quartiere, composti di venti consiglieri ciascuno, a partire da 16 anni in su, eletti nel numero di 15 dal Consiglio Comunale e 5 estratti a sorte, respinte tutte le accuse di antidemocraticità, soddisfatto il sindaco Luca Serfilippi, soddisfatto anche l'assessore Alberto Santorelli. Finalmente i quartieri della nostra città tornano al centro della vita politica, quindi abbiamo accolto anche alcuni emendamenti dell'opposizione, rispondo naturalmente rispedendo al mittente tutte le critiche anche un po' esagerate che sono state mosse nei confronti di questa delibera, una delibera che siamo riusciti a portare a casa appunto nei primi cento giorni e che finalmente darà nuovo impulso a tutti i quartieri della nostra città. Ci aspettiamo una grande partecipazione quando usciranno gli avvisi, inizieremo dalla prossima settimana a girare tutti i quartieri della nostra città perché c'è una grande voglia di partecipazione, l'abbiamo detto in campagna elettorale tutti i vari candidati e con uno strumento snello come questo regolamento riusciamo nei primi sei mesi a dotarci di dieci quartieri con duecento persone che diventeranno parte attiva della nostra città. Abbiamo anche accolto appunto l'emendamento di allargare questi consigli di quartieri alle scuole e anche a tutti coloro che hanno ad esempio un circolo anziani piuttosto che un circolo ricreativo e che vogliono dare un contributo fattivo vero per il futuro della nostra città. Perché avete scelto la nomina dei consiglieri da parte del Consiglio Comunale e non invece con una elezione diretta da parte dei cittadini? L'elezione diretta avrebbe comportato delle liste, liste naturalmente elettorali dove la maggioranza avrebbe portato le proprie liste e l'opposizione è la sua, quindi avrebbe ulteriormente diviso i quartieri e anche politicizzato questi consigli di quartiere. Mi auguro che ci siano delle liste unitarie che tenga conto sicuramente anche dei nominativi proposti dalla minoranza perché nei quartieri non ci sono molto spesso problemi né di centro-destra né di centro-sinistra ma ci sono problemi oggettivi e chiunque voglia dare un contributo fattivo io ho chiesto di privilegiare l'ingresso dei giovani, una delle novità appunto è l'ingresso anche di persone che hanno 16 anni quindi vorrei tanti giovani ma anche tante donne che vogliono dare un contributo fattivo per i quartieri. Siamo persone serie che hanno ribadito più volte che su questo provvedimento vogliamo la più ampia partecipazione e che quindi questo non deve ovviamente condizionare alcun partito nel poter pensare di avere dei propri rappresentanti dentro il consiglio di quartiere. È giusto vedere chi si candiderà a questa iniziativa e il consiglio comunale si darà dei criteri per reggere le persone. Ovviamente garantendo anche la rappresentanza a tutti e quindi mi viene un po' da pensare, da dire che forse chi mal fa mal pensa perché il dibattito del consiglio comunale è stato per lo più incentrato su questa cosa che ne è sugli aspetti anche positivi di questa delibera che apre ai sedicenni, apre alle associazioni, apre agli istituti comprensivi, apre ai centri sociali, centri e agregazioni approvando anche appunto un emendamento del consigliere Mascarin quindi come anche dimostrazione di ampia disponibilità nei confronti di questo provvedimento che vuole rimettere in connessione il consiglio comunale, la giunta con la città dando la possibilità ai cittadini di ritornare a un senso civico e ad un dibattito che forse negli ultimi anni abbiamo visto solo sui social. È stato un dibattito in questi anni purtroppo sterile come è spesso sui social e che non porta una sintesi. Invece noi vorremmo che si ritornasse ai rapporti veri tra le persone che si possono confrontare anche in una stanza e che prendano delle decisioni e facciano delle proposte per il bene comune e per il bene del proprio quartiere.